Ciao amici benvenuti nel mio canale guarda e impara. Un ricordo, un'emozione, una pausa dal set, la foto che ritrae Khan Yaman e il suo collega Giovanni sul set di Viola come il mare ha intenerito e fatto piangere molte sue fan. Viola come il mare vede protagonisti Francesca Chillemi e Khan Yaman. Coprodotta da RT e Luxvide e diretta da Francesco Vicario, Viola come il mare è una serie light crime in sei serate, tratta dal romanzo Conosci l'estate? Di Simona Tanzini. La prima stagione della serie è andata in onda in prima serata su Canale 5 lo scorso 30 settembre 2022. A luglio 2023 iniziano invece le riprese di Viola come il mare 2, sempre tra Roma e Palermo. Tra gli interpreti di Viola come il mare 1, oltre alla Chillemi e a Khan Yaman, c'era anche l'attore Giovanni Nasta, che ha interpretato benissimo il personaggio di Turi, il braccio destro dell'ispettore capo Francesco Demir. I due attori sono diventati grandi amici e la foto che vi postiamo sotto, che ha intenerito molte fan dell'attore, rende l'idea di quanto sia grande la loro amicizia e la loro stima.